mi fate vedere i vostri capelli rossi vicino vi dovete da mettere lei che cos'è madame picasso lei è presidente della regione calabria invece lui che fa le feste lussuriose ma è un lussurioso lui si vede dall'aspetto lei che aveva la coscetta di fuori scusate io ho tutte queste belle ma simpini che gruppo di belle le belle e le fai è l'infant prodigio della moda il commento sarebbe da saxatura bene bene vestito di luigi bruno le scarpe sono di christian dior ma non sono sue sono di christian dior grazie tre quarti di nobiltà con un quarto di bellezza è meglio la bellezza sicuramente che farete da grandi che vi siete messo in testa le bambine le bambine va bene ecco la capoche girati adesso mi fai vedere il braccio con la scritta capricorno grazie 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 a lei insieme a storace si eeeh ma chi è? ma da dove sbuca lei? eeeh non mettiamo solo il seno Alberto for president Alberto senatore Pina perché ormai voglio diventare un cineasta grazie a tutti grazie a tutti